La città di Belluno, ma la provincia intera, si sta preparando ad un evento sportivo davvero straordinario. Nelle scorse settimane Night in Day vi ha narrato in breve la storia del Giro d'Italia e ha cercato di dare spazio puntata dopo puntata a tutti gli eventi collaterali organizzati dal Comune di Belluno in collaborazioni con enti, associazioni e realtà sportive del territorio. Ma è arrivato il momento di fare una chiacchierata con il Sindaco di Belluno, Antonio Prade, per scoprire quanta fatica ed entusiasmo c'è dietro l'organizzazione di questi eventi. Il 24 maggio la città sarà interessata dalla tappa del Giro d'Italia. Una grande occasione è questa per valorizzare ancora più il territorio bellunese. Come si sta preparando l'amministrazione e la città di Belluno? In modo impegnato, in modo alacre, con un grande lavoro da parte delle forze interne al Comune, ma soprattutto da parte dei cittadini, da parte delle associazioni, da parte di tutte le componenti vive della città. Perché deve essere un giorno di grande festa e un giorno che si ricorderà per il futuro. La città darà il meglio di sé, ne sono certo. Mi tolgo una curiosità. Che sforzo economico ed umano richiede ad una città il passaggio del Giro d'Italia? Lo sforzo economico è rilevante. L'entusiasmo e la determinazione con cui abbiamo coltivato questo evento qui ci hanno consentito anche di andare a trovare i soldi dove ci sono. Quindi è uno sforzo economico che è stato compensato, che non porterà dietro dei debiti. E quindi tutti i cittadini saranno tranquilli che non saranno aumentate le tasse per il Giro d'Italia. E quello che mi importa rilevare di più però è il grande fervore che la città offre per questo grande evento. Che ripeto, è un evento grande di per sé, ma io voglio che sia anche un grande evento perché sia una sorta di apripista per quella che sarà lo sviluppo futuro della nostra città dal punto di vista dello sviluppo turistico. La scuola svizzera del Nevegal, la città di Belluno che possa diventare negli anni, negli anni futuri, un centro di attrazione di livello mondiale per la scuola dell'ospitalità. Questo è il nostro grande sogno. Grazie a questa manifestazione la nostra città ed il Colle del Nevegal sono in rete in tutto il mondo. Il Comune ha organizzato inoltre una serie di eventi collaterali davvero interessanti. La pedalata rosa che si è già svolta, questo weekend la scalata rosa e la gymkana rosa, oltre alla notte rosa. Domenica il centro per i servizi per il volontariato e lunedì 23 maggio una serata suggestiva proprio in Piazza Duomo. È stato facile e stimolante trovare collaborazioni in grado di arricchire la città e dare il giusto valore quindi al territorio? È stato facile trovare le giuste disponibilità. È stato più difficile proprio per la ricchezza di queste disponibilità metterle tutte insieme. Io fra tutte quelle che lei ha citato me ne preme indicare una, quella che io ho battezzato la carovana della solidarietà. Cioè tutte le forze vive della città, quelle che lavorano gratis per così dire, che insieme si esporranno e faranno vedere chi sono a tutto quanto il pubblico del Giro d'Italia la domenica precedente, quello che sarà il grande evento. Quindi questo direi che è l'aspetto che mi interessa veramente veicolare perché daremo dimostrazione di qual è la ricchezza viva di questo territorio. Siamo molto incuriositi da A Bocca Aperta. Ci ricorda subito la prima serata, svoltasi l'anno scorso con ampi consensi e scenari inediti. Questa serata in Piazza Duomo come si svilupperà e sarà un piccolo assaggio di quella che speriamo possa essere la nuova edizione di A Bocca Aperta? Certo. Sarà organizzata sulla falsa liga di quella che ha avuto grande successo l'anno scorso. Quest'anno ci sarà qualche aspetto nuovo in più che naturalmente non voglio anticipare. Rimarrà sempre una originalissima idea che anche questa è un patrimonio di cosa sa fare, sanno fare le persone quando gratuitamente, mi importa dire gratuitamente, si mettono a disposizione di tutti. Chiudiamo infine con un invito ai cittadini a partecipare a questo Giro d'Italia in maniera molto personale e partecipata. Certo, ma senz'altro sarà così. Vorrei dire che tutto il tragitto fosse una sorta di spalto continuo di cittadini, di persone, di ospiti che possano assistere a questo grande evento che voglio sia un grande evento di popolo e quindi un grande evento culturale come senz'altro sarà.